Il Consiglio di Stato, con sentenza del 4 novembre 2019, ha accolto il ricorso in appello presentato dal Consorzio Agrituristico Mantovano con il sostegno di Conf Agricoltura Mantua e CIS Lombardia per la gestione del mercato contadino del Lungorio. Sono state accolte dunque le ragioni delle tre associazioni che contestavano il fatto che nello Statuto di Agrimercato non fosse prevista l'ammissione ai mercati gestiti da quest'ultima di aziende non associate. Grazie a tutti.